Chiara Ferragni, flirt con Tony F? Il doppio indizio scatena il web, con stoccata di TaylorMega E se l'influencer stesse frequentando uno dei, tanti, acerrimi nemici del quasi ex marito Fedez? A questo punto, nulla di più probabile, vediamo perché Mentre prosegue la definitiva separazione di Chiara Ferragni e Fedez, e quest'ultimo mostra beatamente la sua ultima liaison con la modella francese Garance Autie, alcuni indizi lascerebbero pensare a un nuovo flirting corso anche per la bella imprenditrice digitale Ebbene sì, la community superattiva di Chiara Ferragni ha notato alcuni suoi movimenti sospetti, nonché un doppio indizio che lascerebbe ipotizzare la sua frequentazione con uno dei, tanti, nemici di Fedez, Tony F Tanto che anche la storica fidanzata del rapper, TaylorMega, pare sia intervenuta proprio sull'argomento con stoccata social alla Ferragni. Scopriamo di più Chiara Ferragni e Tony F si frequentano? Il doppio indizio I fan di Chiara Ferragni sono attentissimi e nulla di ciò che accade sui social può sfuggire al loro sguardo E, infatti, è proprio da alcuni indizi social che molti fan hanno ipotizzato il recente flirt tra l'imprenditrice e uno dei rapper più odiati da Fedez, Tony F Le voci hanno iniziato a circolare dopo la pubblicazione da parte di Chiara di un video nel quale indossava una felpa a righe, la stessa felpa che Tony F aveva indossato in precedenza a Monte Carlo Coincidenza? Forse sì, ma la faccenda non finisce certo qui I fan hanno infatti notato che Chiara non indossava solo la felpa a righe incriminata, ma anche scarpe e borsa Miu Miu, che molti hanno interpretato come un ulteriore riferimento a Tony F In uno dei video più popolari del rapper per il brano Miu Miu, il test dice infatti, Miu Miu, curchi ve le Tony, comprami la borsa. Altra coincidenza? Difficile da credere Al momento c'è dunque chi ipotizza che tra i due possa essere in corso un vero e proprio flirt, mentre altri ipotizzano una collaborazione lavorativa Quale sarà la verità? Al momento non è dato sapersi, ma l'intervento social dell'ex di Tony F, Taylor Mega, fa propendere di più per la prima ipotesi Taylor Mega, stoccata social a Chiara Ferragni Ai tanti fan della Ferragni è saltato all'occhio, infatti, anche un altro indizio Di recente, l'influencer Taylor Mega, ex storica di Tony F, pare abbia lanciato una bella stoccata proprio a Chiara Ferragni attraverso i social Nelle sue stories di Instagram, Taylor ha pubblicato una frase d'impatto che certamente non è passata inosservata, sentiti ridicola Non notate nulla di strano? Beh, il riferimento all'iconica frase sentiti libera di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo è abbastanza palese Il commento potrebbe dunque essere riferito a lei? Magari proprio per il suo flirt con Tony F? Per ora tante domande e nessuna risposta, ma presto ne sapremo sicuramente di più Grazie a tutti